benvenuti a meteo giulianci punto iti oggi arriva sull'italia un'altra perturbazione atlantica la quale porterà soprattutto nel pomeriggio sera piogge su romagna regioni centrali regioni tirreniche neve però solo sulle alpi di confine venti di fenne nella sera sulle regioni di nord ovest ci sono in questo momento anche delle nebbie nebbie che non citiamo perché verranno quanto prima socchiantate dalle nuvole dalle piogge bene vediamo allora l'immagine del satellite appena rilevata poco ore fa vedete appunto le molte nuvole che sono già ridosso del nord italia che nel pomeriggio raggiungeranno anche le regioni centrali bene il tempo allora che farà oggi vedete sereno solo sulle regioni di nord ovest ma a partire dal tardo pomeriggio sera sereno sulla puglia molte nuvole sul resto d'italia nevicate sulle alpi di confine piogge su romagna quasi tutte le regioni centrale eccetto l'abruzzo e il molise piogge sulle regioni tirreniche sull'ovest della sardegna sul nord della sicilia le temperature massime previste per oggi bene temperature in lieve calo sul nord italia intorno a valore 7 10 gradi al nord 10 14 al centro 13 16 sulle isole maggiori sulla regione meridionali bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno grazie a tutti